Benvenuti all'oroscopo di oggi. Siete pronti a esplorare i segreti del vostro segno zodiacale e a scoprire come gli astri influenzeranno la vostra vita? L'oroscopo del segno Ariete. Oggi è il momento ideale per dare il via ai tuoi progetti. Il tuo spirito dinamico e la tua energia sovrabbondante sono al culmine, quindi approfitta di questo slancio per compiere quel balzo in avanti che hai sempre rimandato. Se incontri un ostacolo, affrontalo con audacia e risolutezza. Ricorda che ogni barriera è solo un'opportunità travestita. Non lasciarti scoraggiare dalle difficoltà. Il tuo potenziale è immenso e il mondo è pronto ad accoglierlo. Mantieni gli occhi puntati sui tuoi obiettivi e non permettere a nessuno di seminare dubbi in te. La tua naturale leadership è evidente, quindi guida con sicurezza e ispirazione. Oggi, più che mai, il cielo è il limite per te. Un recente incontro ti sta regalando sensazioni preziose e indispensabili. Elementi di un legame che tende verso l'armonia. La giornata lavorativa sarà piuttosto tranquilla. Affronta la routine con serenità. Sul piano fisico, potresti sentirti un po' giù di morale. Una passeggiata nella natura ti farà sentire meglio. In questo momento sei facilmente irritabile e ogni parola detta in famiglia potrebbe scatenare una discussione. Fai un respiro profondo prima di reagire. Non aver paura di chiedere aiuto. L'oroscopo del segno toro. La tua perseveranza e la tua pazienza sono i tuoi alleati oggi. Anche se potresti sentirti sommerso dalle responsabilità, rammenta che hai la forza necessaria per superare ogni ostacolo. Dedica del tempo a riflettere sui tuoi obiettivi a lungo termine e crea un piano realistico per raggiungerli. La tua determinazione ti condurrà lontano, quindi non arrenderti. Le piccole vittorie quotidiane sono tanto importanti quanto i grandi successi, quindi celebra ogni progresso. Sii gentile con te stesso e riconosci i tuoi meriti. Il tuo duro lavoro sta per essere ricompensato, quindi continua ad avanzare con fiducia e costanza. Questo periodo si distingue per intensità, passione e desiderio di condividere progetti e tenerezza con il tuo partner. Il lavoro procede tranquillo, ma non abbassare la guardia. Il tuo benessere sembra risentire della quotidianità, che può essere faticosa o monotona. Evita le città rumorose e i luoghi affollati. Hai bisogno di immersione nella natura e di solitudine. Se hai parenti che tendono a controllare troppo, cerca di ritagliarti uno spazio di libertà. Non dimenticare di concederti qualche trasgressione di tanto in tanto. L'oroscopo del segno gemelli. Oggi è un giorno perfetto per comunicare e connettersi. La tua mente acuta e la tua adattabilità sono i tuoi punti di forza. Utilizza queste qualità per creare ponti e aprire nuove opportunità. Non temere di condividere le tue idee e la tua visione con gli altri. La tua energia positiva è contagiosa e può ispirare chi ti circonda. Ricorda di rimanere fedele a te stesso e di non lasciarti influenzare eccessivamente dalle opinioni altrui. La tua autenticità è la tua forza, quindi abbracciala con orgoglio. Oggi, le tue parole e le tue azioni possono avere un impatto significativo, quindi usa il tuo dono della comunicazione per fare la differenza. Un incontro fortuito o una conversazione inaspettata potrebbe spalancare nuove porte, quindi mantieni la mente aperta alle possibilità. La tua versatilità è un dono e oggi è il giorno giusto per sfruttarla al massimo. I single sono stanchi di commettere sempre gli stessi errori. Chi è in coppia può avanzare delle richieste al partner. Nel campo lavorativo, sono in arrivo delle risposte. Prendetevi del tempo per riflettere sui vostri errori passati e cercate di imparare da essi. L'oroscopo del segno cancro. Oggi è il momento di seguire il tuo cuore e le tue intuizioni. La tua sensibilità e il tuo intuito sono eccezionali, quindi confidare nel tuo istinto è la chiave. Potresti sentirti spinto ad aiutare gli altri, ma non trascurare il tuo benessere personale. Il tuo equilibrio emotivo è cruciale per la tua felicità e la tua efficacia. Cerca di trovare un equilibrio tra dare e ricevere. Le tue relazioni personali potrebbero trarre beneficio da una maggiore apertura e onestà. Non aver timore di mostrare la tua vulnerabilità. Questo può rafforzare i legami e creare una connessione più profonda. Oggi, abbraccia la tua natura empatica e lascia che il tuo cuore sia la tua guida. Gli splendidi transiti planetari promettono l'arrivo di cicogne, matrimoni e acquisti di case, preparati a dovere. Anche la tua professione richiederà molta flessibilità e adattabilità. impara a gestire i cambiamenti con elasticità. È il momento ideale per prenderti cura della tua salute. Il tuo fisico potrebbe aver bisogno di più ossigeno, quindi cerca di camminare di più all'aria aperta o, se non puoi, arieggia spesso la stanza in cui ti trovi. L'oroscopo del segno leone. Oggi è il giorno in cui puoi risplendere e mostrare al mondo il tuo talento. La tua sicurezza e il tuo fascino sono insuperabili, e questo è il momento giusto per sfruttarli a tuo favore. Non sottovalutare l'impatto della tua presenza. Puoi influenzare positivamente chi ti sta intorno con il tuo entusiasmo e la tua passione. Se hai un'idea o un progetto che ti appassiona, non esitare a condividerlo. Il tuo coraggio e la tua determinazione ti condurranno a grandi risultati. Tuttavia, non dimenticare di rimanere umile e di riconoscere il valore degli altri. La tua leadership sarà ancora più efficace se saprai ispirare e apprezzare coloro che ti supportano. Oggi, lascia che la tua luce brilli senza riserve. Se siete single, un'urgenza affettiva particolarmente insistente vi invade e vi spinge a proporvi con qualcuno che ha recentemente attirato la vostra attenzione. Investire in voi stessi e nella vostra formazione potrebbe diventare la chiave per il vostro futuro e la vostra tranquillità economica. Sul piano della salute, non ci sono problemi, ma non sottovalutate nulla. In famiglia, le discussioni sono all'ordine del giorno, ma non dimenticate mai la gentilezza, altrimenti potreste pentirvene. L'oroscopo del segno vergine. Oggi è il momento di organizzare le tue idee e i tuoi piani. La tua attenzione ai dettagli e la tua capacità di gestione sono i tuoi punti di forza, quindi usali al massimo. Dedica del tempo a rivedere i tuoi progetti e a stabilire una gerarchia delle priorità. Questo ti aiuterà a mantenere la concentrazione e a gestire il tuo tempo in modo più efficiente. Valorizza la tua capacità di analisi, ma non trascurare le tue intuizioni. Oggi, cerca di bilanciare la logica con l'istinto e non temere di apportare modifiche se necessario. La tua dedizione e il tuo impegno saranno la chiave del tuo successo. Se il vostro partner vi ama e voi amate il vostro partner, allora tutto il resto passerà in secondo piano. Sul lavoro, non dovete mai trascurare i vostri doveri. Siate seri e affidabili per affrontare le sfide quotidiane. Per quanto riguarda la salute, dovete fare attenzione alla vostra dieta. Scegliete cibi leggeri e bevete molta acqua. Sembra che ci siano tensioni tra genitori e figli, quindi preparatevi a discutere. L'oroscopo del segno bilancia. Oggi è il giorno ideale per cercare l'equilibrio e l'armonia nelle tue relazioni e nei tuoi progetti. La tua abilità nel mediare e il tuo senso di giustizia ti rendono un punto di riferimento. Utilizza queste qualità per risolvere conflitti e creare un ambiente sereno e collaborativo. La tua capacità di vedere entrambi gli aspetti di una questione è un dono, ma non perdere di vista ciò che è importante per te. Oggi, lavora per trovare un equilibrio tra dare e ricevere, tra lavoro e tempo libero. La tua serenità interiore sarà la chiave del tuo successo. In questo periodo vi sentite più sicuri di voi stessi, il che vi rende quasi infallibili in amore. Sul lavoro, siate perspicaci e non ostinati. Dal punto di vista della salute, oggi vi sentite un po' giù di tono. Gli sbalzi di clima, di altitudine e di ritmo vi stancano. Avete bisogno di regolarità nella vostra vita. Se l'amore e il lavoro vi stressano, non scaricate la tensione sulla vostra famiglia, altrimenti potreste presto avere a che fare con altre complicazioni. I vizi sono sbagliati, è vero, ma qualche innocuo vizietto aiuta ad andare avanti. L'oroscopo del segno scorpione. Oggi è il momento di esplorare a fondo le questioni che ti stanno a cuore. La tua intensità e la tua passione ti permettono di scorgere ciò che è nascosto. Usa questa capacità per affrontare problemi e chiarire situazioni ambigue. La tua determinazione e il tuo coraggio ti aiuteranno a superare ogni ostacolo. Ricorda di essere gentile con te stesso e con gli altri. La tua forza interiore è grande, ma non dimenticare la compassione e la comprensione. Le relazioni possono crescere grazie alla tua apertura e fiducia. Oggi, usa la tua capacità di rigenerazione per lasciar andare ciò che non serve più e per aprire spazio a nuove opportunità. La tua trasformazione interiore ti porterà a una maggiore consapevolezza e realizzazione. Godetevi l'inizio di una fase astrologica all'insegna della trasgressione e della voglia di superare le regole attuali nell'amore e nell'eros. La configurazione generale dei pianeti vi garantisce le risorse per affrontare la giornata in ufficio, ma siate comunque moderati. L'attività fisica è fondamentale per voi, e lo sapete bene, visto che amate andare in palestra e non uscite senza la vostra fedele bicicletta. L'oroscopo del segno sagittario. Oggi è il giorno ideale per esplorare orizzonti inesplorati e allargare i tuoi confini mentali. La tua brama di conoscenza e avventura ti spinge verso nuove esperienze emozionanti. Non temere di uscire dalla tua zona di comfort e di affrontare l'ignoto. Oggi, grazie a una configurazione celeste favorevole, vi trovate in perfetta armonia fisica e mentale con la vostra metà. È il momento ideale per godersi pienamente la compagnia reciproca. Se la pressione lavorativa diventa eccessiva, è utile organizzare le giornate in modo più efficace, per liberare tempo da dedicare a voi stessi, pur rispettando i vostri impegni. Ignorare questa necessità potrebbe avere conseguenze negative. A tavola, concedetevi qualche piacere extra senza esagerare, soprattutto se praticate sport acquatici, i vostri preferiti. Attenzione allo stress, che potrebbe influire sulla vostra digestione. Anche durante le vacanze, il pensiero del ritorno al lavoro può essere opprimente. Fate attenzione anche alle dinamiche familiari, poiché potrebbero emergere conflitti significativi. Ricordate, è più semplice distruggere che costruire, ma costruire porta più gioia. L'oroscopo del segno capricorno. Oggi è il momento di concentrarti sui tuoi obiettivi a lungo termine con la tua solita determinazione e disciplina ferrea. La tua capacità di lavorare sodo e di pianificare con attenzione ti permetterà di fare passi importanti. Non lasciare che i piccoli intoppi ti demoralizzino. Ogni difficoltà è un'opportunità per mostrare la tua resilienza. Dedica del tempo a riflettere sui tuoi successi e a riconoscere il valore del tuo impegno. La tua ambizione ti condurrà lontano, ma non dimenticare di trovare momenti di relax e di condivisione con i tuoi cari. Oggi, il tuo duro lavoro e la tua dedizione saranno ricompensati, quindi continua ad avanzare con fiducia e determinazione. L'attuale disposizione degli astri favorisce esperienze emotive ricche, sia che siate accompagnati sia che il vostro cuore sia libero e aperto a nuovi incontri. In ufficio, la giornata procede senza intoppi, sebbene qualche piccolo errore possa sorgere. Per alleviare eventuali tensioni, trascorrete tempo all'aperto. Anche le famiglie più unite possono attraversare periodi di discordia. Se possibile, cercate di mediare per ristabilire l'armonia. Lasciate da parte rancori e cercate la serenità. L'oroscopo del segno acquario. Oggi è il giorno perfetto per abbracciare le tue idee innovative e il tuo spirito indipendente. La tua mente aperta e la tua capacità di pensare in modo non convenzionale ti permetteranno di trovare soluzioni creative a qualsiasi problema. Non avere paura di sfidare la tradizione e di sperimentare nuovi metodi. Il tuo desiderio di cambiamento e progresso è una forza potente, quindi usalo per promuovere i tuoi progetti e ispirare gli altri. Ricorda di rimanere in contatto con le persone che condividono i tuoi ideali e le tue passioni. Lavorare insieme può aumentare il tuo impatto. Oggi, lascia che la tua originalità brilli e non temere di essere un pioniere nel tuo campo. Un approccio più dolce e affettuoso potrebbe sostituire la vostra solita determinazione nelle relazioni amorose. Per gli acquario, questo periodo è propizio alla creatività, quindi accogliete con entusiasmo i cambiamenti. Potreste iniziare la giornata sentendovi svogliati, ma con il passare delle ore, la vostra energia e il desiderio di attività rinasceranno. Piccole frizioni potrebbero minare l'armonia familiare. Mantenete la calma e usate la diplomazia. L'oroscopo del segno pesci. Oggi è una giornata ideale per connetterti con il tuo lato più intuitivo e creativo. La tua sensibilità e la tua empatia ti permettono di percepire le emozioni altrui e di comprendere a fondo le situazioni. Utilizza questa capacità per offrire supporto e comprensione a chi ne ha bisogno. La tua creatività è al culmine, quindi dedichiamoci a progetti artistici o a esprimere le tue emozioni attraverso l'arte, la musica o la scrittura. La meditazione o una passeggiata in natura possono aiutarti a trovare la pace interiore. Oggi, lascia che la tua intuizione sia la tua guida e abbraccia la tua natura compassionevole. Più espansivi che mai, vi avvicinate alle persone con entusiasmo e dedizione. Questo è il momento ideale per coloro che desiderano lasciarsi alle spalle la vita da single. Sul lavoro, affrontate le negoziazioni con serenità, promuovendo un'atmosfera di equità e collaborazione. La salute è buona, ma è essenziale mantenere uno stile di vita sano. Se in famiglia ci sono già tensioni, evitate di aggravare la situazione. La vita risponde con un sorriso a chi la guarda con allegria.